L'Istituto Alberghiero si adatta alle nuove esigenze degli studenti, diventando più funzionale ed idoneo ad erogare la didattica a distanza al 50%. La dirigente scolastica Rita Cardamone mira anche a potenziare l'aspetto tecnologico dell'Istituto mediante l'adozione di nuovi software di apprendimento, al fine di fronteggiare al meglio l'emergenza da pandemia, nonché trarne risultati positivi in merito all'apprendimento didattico dei propri studenti, che ancora per qualche mese non potranno tornare al 100% in presenza. Ci stiamo attivando per accogliere ragazzi al meglio delle nostre possibilità. I ragazzi hanno avuto due mesi e più di sofferenza a casa e quindi cercheremo di fare in modo che loro arriveranno a scuola trovando un istituto più funzionale alle loro esigenze, più aperto e più adeguato a quella che sarà una didattica al 50% ancora a distanza. Nel frattempo tutti i ragazzi dei due istituti, sia l'Ite che l'Ipseua, troveranno ambiente più allegro, più divertente, più adeguato alla loro privazione degli spazi didattici. Infatti stiamo cercando di attivare laboratori funzionali, laboratori aperti a tutte le discipline e anche nuove metodologie di studio, perché i ragazzi hanno imparato tanto con la didattica a distanza, i docenti hanno imparato tanto, io stesso ho imparato tanto da questa esperienza negativa, per cui stiamo cercando di sfruttare l'onda positiva di questa negatività per fare in modo che potenziare le innovazioni digitali e tecnologiche, partendo proprio dai nuovi software di apprendimento. Mille piantine fornite dall'azienda forestale saranno piantate all'esterno dell'istituto al fine di realizzare un polmone verde per la città. La cucina sarà invece saltata attraverso piantine autoctone. Stiamo puntando sulla gioia di trovare i locali più scurati e più attenti alle loro esigenze. Infatti piantumeremo le mille piantine che l'azienda forestale ci ha fornito, cercheremo così di fare all'Ipseo, all'istituto alberghiero, un ambiente esterno, curato e un polmone verde della città. Speriamo col tempo di poterlo realizzare. L'alberghiero e il commerciale sono due istituti scolastici da considerare come l'uno e il completamento dell'altro, in quanto forniscono le competenze necessarie per sviluppare un valido servizio turistico ed economico per il territorio. L'istituto alberghiero, così chiamato, offre la possibilità ai ragazzi di avere competenze nei servizi turistici alberghieri di accoglienza. Mentre l'ITE, l'istituto tecnico economico, con l'indirizzo turistico, fra l'altro un indirizzo molto bello perché si studiano addirittura tre lingue. In più, gli altri tre indirizzi dove si fa informatica, marketing, si studia economia, indagini di mercato, sono tutte quelle competenze che ognuno di noi deve possedere quando vuole fare una piccola impresa. Anche quando vuole essere impresario di se stesso, trovare lavoro, deve conoscere le basi dell'economia, del marketing e anche della grafica pubblicitaria. Il dirigente scolastico, inoltre, ha accolto come una sfida l'opportunità di sviluppare il programma di cucina mediterranea nel mondo e di cucina a chilometro zero. È una sfida perché noi dobbiamo valorizzare, come dicevo sempre, quello che è nostro. Noi sappiamo che la dieta mediterranea è il patrimonio mondiale dell'umanità. In Sicilia abbiamo noi sette siti dell'UNESCO e la dieta mediterranea è un patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi assolutamente va portata avanti, va supportata con tutto l'indotto che c'è dietro questa grande cultura che noi abbiamo. Quindi è una sfida perché, secondo me, dobbiamo cercare di fare in modo che questa cucina mediterranea, la dieta mediterranea e tutto quello che è mediterraneo possa diventare, ritornare ad essere il centro del mondo. Il ruolo della scuola è indispensabile per scongiurare l'incremento dello spopolamento delle eccellenze e, come sostenuto dalla dirigente scolastica, è fondamentale diffondere i concetti di innovazione e differenziazione, così da favorire un arricchimento delle proprie conoscenze per poi spenderle nel proprio territorio.